Daniel, Tiger è qui con te! Ciao! Ciao, amici! Scusa, Elaina, ma sei proprio tu? Certo che sono io, ma sono... Al contrario! Ciao, ciao! Guardatemi, sono Daniel Tiger al contrario! Ciao, Daniel, al contrario! Ciao! E tu come sei? Ecco, ciao, Elaina! Beh, io sono al dritto, ma tu sei molto, molto al contrario! Sì, lo so! Guarda, anche i miei vestiti sono al contrario! È divertente! Dai, venite dentro a giocare! Però, mi raccomando, entriamo... Al contrario! Io ci sto! Fate attenzione, però! Tattadà! Tattadà! Sentite, ho deciso che oggi sarà la giornata al contrario! Evviva! Elaina è veramente molto simpatica, non trovi anche tu! Sentite, ho preparato un bel gioco per divertirci! Evviva! Io adoro i giochi! Un gioco al contrario! Non so come dirlo, ma non credo che mi piacciono i giochi al contrario! Allora, giochiamo a trovare le cose al contrario che ci sono nella mia stanza! No, non ti offendere, è una bella idea, ma no, grazie! Le cose al contrario! Dimmi, che cosa vedi al contrario? Sì, aspetta! Io riesco a vedere un bel trenino! No, un treno al contrario! Oh, è cibicchia! Non mi piacciono i treni al contrario! Vediamo! Secondo me c'è ancora qualcosa al contrario! Guarda anche tu con me! Allora, vedo, vedo! Vedo, vedo! Dei giocattoli! Dei giocattoli al contrario! Oh, aiuto, aiuto! Perfetto! Cos'altro vedi al contrario, Daniel? Al contrario, vedo, vedo, vedo! Una scimmia! Una scimmia al contrario! Oh, aiuto, 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 aiuto! Insomma, Gu, giocare al contrario è divertentissimo! Le cose un po' diverse sono forti! Se lo dici tu! Oh, 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 ah, ah! Oh, oh, ah, ah! Oh, oh, ah, ah!